Grande fratello VIP 2022-2023 18 gennaio 2023 e mezzogiorno e 28 attivio romita. Nikita non mi passano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti parlo più, il nostro rapporto finisce qua. Sei un maiale, aveva detto Oriana una volta terminata la puntata. Marzoli è riuscita a superare quel giudizio impietoso e a recuperare il suo rapporto con Romita nonostante la frase grave che il giornalista le aveva indirizzato. Un caso simile era scoppiato qualche tempo prima anche con Sara Altobello, della quale aveva detto, non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così frufru. Per quelle frasi, che avevano addolorato Sara, Romita si è scusato.